Non chiamate lo sistema random. La ASL esce allo scoperto sui criteri di chiamata per i vaccini e precisa che la selezione avviene per le zone di appartenenza. Fin dall'inizio della campagna vaccinale sono state sempre rispettate le indicazioni nazionali e regionali delle categorie definite come prioritarie dalla regione Abruzzo o Dipartimento Sanità. Per quanto riguarda la vaccinazione dei soggetti ultraottantenni fa sapere la ASL come da indicazioni regionali in base alla piattaforma informatica a disposizione del Dipartimento ci si è attenuti a rispetto in primis delle manifestazioni di interesse avanzate dei cittadini avente diritto registrati sull'apposito portale regionale. Attingendo la dette manifestazione di interesse il sistema informatico attualmente in uso presso l'azienda provvede all'individuazione dei nomi nativi per zona di appartenenza alla macro area aziendale ovvero l'Aquila, Sulmona, Avezzano, Castel di Sangro. In questa fase ogni persona over 80 da vaccinare viene contattata telefonicamente dagli operatori del contact center. Nel caso di mancata risposta o impossibilità di potersi recare al centro vaccinale nel giorno indicato il sistema informatico stesso sceglierà il primo over 80 con analoghe caratteristiche da poter includere a sostituzione dell'assente o del rinunciante. Tale sistema, oltre a offrire massima trasparenza, permette di effettuare sedute vaccinali in ambito provinciale di oltre 1000 vaccinazioni al giorno, perfettamente media con le somministrazioni vaccinali nelle altre ASL, evitando le mancate prestazioni con conseguente rischio di spreco dei vaccini. Sono diverse però le segnalazioni pervenute dagli ultraottantenni che attendono la telefonata della ASL per l'appuntamento con il vaccino. Uno di loro addirittura ieri nella sede del tribunale del malato è stato colto da malore e ha chiesto ai volontari quale fosse il sistema che la ASL sta adottando per la chiamata. Questo vuol dire che c'è un'utenza comunque in attesa. L'ordine di prenotazione va ricordato non conta. Secondo l'azienda sanitaria più che un sistema random si tratta di una chiamata per aree geografiche di riferimento e di appartenenza, anche se il meccanismo non è di facile interpretazione da parte dell'utenza e i conti non tornano.